33 persone ascoltate e nessun indagato. Si teme il peggio, ma le ricerche continuano. Sono passati 17 lunghi giorni dalla scomparsa di Alexandra Roxana Radan, ventenne di origine romene, residente a Bisignano, nel Cosentino. I militari, guidati dal comandante del nucleo operativo di Cosenza, il maggiore Michele Borrelli, hanno avviato fin da subito le ricerche, setacciando senza risultati il territorio del paese e la campagna circostante. In queste settimane gli inquirenti non hanno lasciato nulla di intentato, battendo diverse piste, dall'allontanamento volontario al rapimento, passando per la più atroce delle prospettive, che qualcuno abbia fatto del male ad Alexandra e ne abbia occultato il corpo. Ma la madre della giovane, assistita dall'avvocato Aurora San Germano, ha dovuto far fronte, oltre che al carico di dolore per la scomparsa della figlia, anche ad alcuni voci insistenti, secondo le quali la ventenne avrebbe concesso prestazioni sessuali in cambio di denaro ad alcuni anziani di Bisignano. Circostanze che la madre di Alexandra ha pubblicamente smentito, chiedendo che l'attenzione generale ritorni sulle ricerche della ventenne, uscita di casa quella mattina di sabato intorno alle 10, dopo aver ricevuto una telefonata, vestita con abiti da casa, spettinata e struccata con in mano solo il cellulare, l'ultimo contatto a spezzarsi, che ha squillato a vuoto per giorni, prima di spegnersi definitivamente. Grazie a tutti.